Chi è che non lo conosce? Ormai è noto per le sue rime. A forse che è venuto e ha detto, l'ho fatto. Cosa? Anche oggi l'ho fatto. Una poesia. Si prepara Laura e Maria dopo. Si è cancellata l'estemperato. Oh che peccato. Ma no. Davvero. È bravissimo. L'ha fatta e si è cancellata. L'ha fatta e si è cancellata e farà. Buonasera a tutti. Vorrei essere un granello di sabbia per attaccarmi al tuo corpo dorato. Vorrei essere un'onda del mare per avvolgerti dolcemente. Vorrei essere un soffio di vento per accarezzare i tuoi capelli. Vorrei essere il sole infuocato per riscaldarti di passione. Vorrei essere in un coro di stelle per suonarti la mia serenata. Sono qui con la tua mano nelle mie e ti sussurro parole d'amore. Grazie. Se arriva magari la facciamo al ritorno. Fatti torna. Se torna. Se è congelata. Praticamente non c'è evento nel quale Alfonso non riesce a fare la posizione. Laura Maria Anzoni a Ripalda vieni. Tu ce l'hai a portata di mano, no? Aspetta, dammi quella tua antologia. Dammi quella tua antologia così la prepariamo pure per... Da dopo anche andiamo a Nicola. E certo che dovevi declamare. Mica ti vorrei declamare. Declamo io, ok. Grazie. 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 Grazie.